Come promesso siamo tornati nello studio della dottoressa Arianna Milia, ben ritrovata dottoressa, medico estetico, chirurgo plastico e siamo tornati non a caso in questo periodo dell'anno, si sta affacciando, devo dire, anche con un piccolo anticipo la stagione estiva e volevamo proprio parlare con lei dottoressa di tutti quei trattamenti che si fanno chirurgici e non e anche quelli che non si fanno proprio in questo periodo dell'anno per esempio mi è venuto in mente parlando con alcune amiche della questione del peeling, della pulizia profonda del viso che probabilmente con questo sole così forte non è perfettamente consigliato ma in realtà innanzitutto bentornati, sono felicissima di avervi qua bisogna distinguere i peeling che si possono eseguire in questo periodo più caldo dai peeling che invece sono prettamente invernali esistono dei trattamenti che possono essere eseguiti in questo periodo dell'anno e anche in tutto il periodo estivo nonostante la persona si esponga ai raggi solari che non debbano contenere però del retinolo quindi abbiamo un'ampia gamba di trattamenti che permettono di mantenere costante l'inibizione delle macchie che noi abbiamo trattato tutto l'inverno e lo possiamo fare attraverso dei trattamenti specifici da fare durante il periodo estivo in maniera costante Ecco dottoressa, forse è anche il caso di ricordare a chi ci ascolta che proprio in particolar modo in questo periodo sarebbe opportuno utilizzare dei filtri solari piuttosto importanti la cosa che io dico sempre a tutti i pazienti ma anche a tutti gli amici e parenti e i familiari più stretti è che la protezione solare deve essere utilizzata tutto l'anno e in questo periodo quindi da quando inizia il caldo il vero caldo è importante utilizzare dei filtri che vanno dai 50 in su non dal 50 in giù e bisogna sfatare anche il pensiero che tutti hanno della protezione che non permette di abbronzarsi è una grande stupiragine anzi con un buon filtro, una buona crema se ha un'abbronzatura più costante senza i danni che poi portano nel tempo ad avere anche dei tumori cutanei purtroppo io e il mio gruppo ne vediamo tanti visto che li operiamo quindi evitare di non proteggere per avere un'abbronzatura forse più forte ma che poi crea dei danni che pagheremmo in seguito esatto dottoressa a proposito di danni voglio passare un attimo a un altro campo diciamo che è quello prettamente chirurgico si sente spesso dire che coloro le quali vorrebbero come dire fare un intervento per esempio di mastoplastica additiva dovrebbero assolutamente evitare di farlo proprio in questo periodo è così o è un altro mito da sfatare? è un mito da sfatare perché io posso dire che a un'amica che vuole fare un intervento di questo tipo in questo periodo dell'anno in Sardegna sconsiglio di farlo perché dovrebbe rinunciare al mare, all'esposizione solare per almeno un mese e mezzo o due mesi per una buona guarigione, per una buona cicatrizzazione, per non avere fastidi che non avrebbe in un periodo più freddo però è anche vero che se il paziente, la paziente in questo caso può svolgere l'intervento solo in questo periodo per motivi lavorativi, per motivi di vario genere personali o sociali allora si fa l'intervento e ovviamente deve rispettare alla lettera le regole che dovrebbe rispettare anche d'inverno è ovvio che se una paziente viene da me a dicembre e vuole fare una mastoplastica additiva o un intervento al seno o un intervento all'addome e poi dopo 15 giorni deve andare a fare le vacanze in un posto caldo mi rifiuto di farglielo comunque perché non potrebbe seguire le regole che dovrebbe quindi è relativo a quelle che sono poi le abitudini o quelli che sono poi i bisogni e le attività del paziente della paziente in questo caso dottoressa ci sono invece delle richieste principali, ci sono dei trattamenti, degli interventi che vanno per la maggiore in questo periodo dell'anno proprio in vista dell'esposizione, della maggiore esposizione comunque del nostro corpo posso dire che fino a marzo, aprile è stato il periodo delle mini liposculture perché ovviamente ci si prepara l'estate per andare in costume quindi aumenta l'allenamento, aumenta la cura e l'attenzione per il cibo e aumenta anche la voglia di eliminare tutte le adiposite localizzate quindi abbiamo veramente fatto tanti interventi di questo tipo che hanno un recupero comunque di 2-3 mesi quindi si arriva a luglio in condizioni di potersi mettere in costume e poter insomma essere felici del risultato ottenuto ecco dottoressa uno di questi trattamenti per esempio di cui parliamo si è la carbossiterapia possiamo capirne un po' di più? ok la carbossiterapia è uno di quei trattamenti che si può svolgere tutto l'anno cioè da gennaio a dicembre anche d'estate non lascia segni? lascia il piccolo ematoma nel punto in cui l'ago può beccare un vaso durante il trattamento ecco l'ago perché? per cosa si utilizza? l'ago per iniettare? per iniettare anidide carbonica medicale sottocute a diversi livelli a diversi strati con diverse tecniche che solo lo specialista conosce ricordiamolo sempre ricordatevi di svolgervi sempre a specialisti qualificati per qualsiasi trattamento che dobbiate fare in qualsiasi ambito della medicina estetica o della chirurgia plastica è un'iniezione di anidide carbonica sottocute a diversi livelli in base a quello che si deve trattare che permette di risolvere problemi di ritenzione idrica il problema delle sgambe stanche, problemi di insufficienza venosa ovviamente dopo una consulenza specialistica che indica che ci sia questo problema permette di ringiovanire la cute quindi la sita cutanea e del collo e del decolte del viso permette di trattare l'alopecia quindi la caduta di capelli sia in pazienti che hanno subito un intervento di trapianto sia in pazienti donne e uomini che perdono i capelli in maniera normale o per carenze alimentari o per situazioni di tipo ereditario si utilizza ancora nel trattamento dell'occhiaia si utilizza tantissimo post interventi come addominoplastica per la cura delle cicatrici e dell'edema post chirurgico blefaroplastica per accelerare i tempi di guarigione e migliorare i risultati liposuzioni per ridurre in tempi più brevi l'edema post intervento quindi ha una marea di utilità si utilizza nella psoriasi, nella sclerodermia, nelle ulcere cutanee quindi potremmo stare qua a parlare ora di carbositerapia la cosa importante è che è fastidiosa quindi molte pazienti che la fanno da anni, la sopportano io per prima la faccio da tanto tempo perché mi aiuta in alcuni periodi dell'anno a sopportare anche lo stare in piedi, lo stare sedute, quindi la stanchezza dopo una giornata intera di lavoro però è fattibilissima assolutamente ecco dottoressa quando il suo impiego viene utilizzato appunto per per esempio ridurre la lassità cutanea piuttosto che l'eccesso di liquidi è il caso di abbinarla a dei massaggi manuali oppure non va assolutamente toccata diciamo in alcun modo la zona trattata con la carbositerapia? no no no, allora noi in genere in base ovviamente alla terapia che si deve svolgere diamo dei protocolli da seguire e dei consigli al paziente, alla paziente quindi se una paziente viene per una situazione di ritenzione idrica o a diposità localizzate allora noi consigliamo di abbinare dei massaggi fatti dallo specialista di tipo linfodrenante in modo tale da avere maggiori risultati ovviamente sport e alimentazione sono alla base quindi queste cose dobbiamo sempre seguirle mentre se si tratta di un trattamento di un collo, di un decolleté perché c'è una lassità cutanea abbiniamo trattamenti come biorivitalizzazioni laser terapia nei periodi invernali, non in quelli estivi radiofrequenza ad agli, insomma combiniamo ad altri trattamenti il trattamento specifico e mirato della carbositerapia in base a quello che dobbiamo fare ecco ha nominato un altro trattamento al viso che non è proprio iniettare del filler riempitivo perché comunque aiuta alla tonicità del viso ecco in questo caso per esempio è un trattamento tutto l'anno? ovviamente anche qui regole importanti quali sono io oggi faccio un trattamento al viso dove si formano degli ematomi si consiglia di evitare il sole e il mare per almeno due giorni, tre giorni e si consiglia sempre utilizzando una protezione altissima quando poi ci si esporrà il sole questo è importante, ripeto, per avere dei risultati migliori e non avere il segno legato a un ematoma che invece viene trascurato dottoressa prima diceva che ci sono dei trattamenti soprattutto per quanto riguarda le macchie del viso che bisogna assolutamente evitare durante la stagione estiva insomma in questo periodo e forse anche perché i trattamenti se ci sono stati precedenti durante il periodo invernale per esempio hanno diciamo una durata nella loro efficacia che va oltre anche l'esecuzione certo, diciamo che quando si trattano delle macchie, quando si tratta di una discromia cutanea il trattamento non è una singola seduta, è un trattamento che ha 12 mesi di cure che vengono suddivise in cure che si possono fare da ottobre a marzo, aprile e cure che invece si fanno da aprile a settembre quindi è tutto un insieme di procedure che il paziente sa ed è consapevole di dover eseguire per mantenere quello stimolo alla macchia o alla discromia sempre basso in modo tale da non riavere quelle problematiche per le quali è venuta da me o è venuta da noi o comunque gestirle in maniera autonoma Dottoressa per chiudere voglio farle un'altra domanda che riguarda non il viso ma il corpo abbiamo parlato di carbossiterapia quindi parliamo comunque di trattamenti che riguardano sostanzialmente la cellulite la tanto odiata cellulite ecco ce lo sentiamo ripetere spesso soprattutto un messaggio che viene veicolato tramite lo spot di un prodotto in particolare che tutti conosciamo la cellulite è una malattia è così? allora la cellulite non è una malattia diventa una malattia il fatto che ci portino a pensare che sia un problema che solo in pochi anni cioè ne facciamo una malattia siamo noi che creiamo ci creiamo il problema purtroppo la ritenzione idrica che crea queste irregolarità cutanee fa parte della nostra vita soprattutto quella femminile per i problemi legati allo stare in piedi a lavorare in un certo modo a non utilizzare determinate calze che dovremmo usare tutto l'anno ma è un qualcosa di fisiologico non di patologico ovviamente ecco questo dottoressa grazie per averlo detto e palesato dai nostri micro fa parte diciamo del nostro ciclo vitale poi ovviamente il poter ridurre quello che noi vediamo perché alla fine è quello che percepiamo come inestetismo e un altro paio di maniche ci sono varie situazioni che ci permettono di attenuare questa problematica ma fa parte della nostra vita dobbiamo accettarla e anche per attenuarlo oltre che appunto dicevamo acqua alimentazione e sport ricordiamo anche in questo caso mai affidarsi al fai da te o ai praticoni della materia a quello che si fa a quello che si chiede è a valutare lo specialista per ogni campo sia il medico sia l'allenatore sportivo sia il dietologo è importante sempre avere delle figure professionali che fanno realmente quel lavoro e non si sono improvvisati dall'oggi al domani dottoressa io la ringrazio davvero tanto per aver condiviso con noi anche questa volta queste importanti pillole su temi così sentiti soprattutto da noi donne ovviamente l'appuntamento io lo rinnovo di volta in volta per parlare anche in modo più approfondito di tematiche che ci riguardano che ci interessano che riguardano sì è vero l'estetica ma riguardano soprattutto la nostra salute grazie dottoressa milia grazie a voi alla prossima grazie a voi grazie a voi